Me la sono portata a, come posso dire, quando è uscita dalla scuola ho voluto continuare a fare delle cose, con il prodotto del suo disco, però ascoltate come ha cantato dal vivo, senza ritocchi, senza niente, con me e Guido Midrasi, perché è veramente da ascoltare. Questo disco è costato anche tanto, perché di norma si tende a registrare la voce in un certo modo, purtroppo si mette a posto tutto in studio, no? Invece questo è costato alla ripresa, perché io ho detto, succeda quello che succede. Però se è il mio disco dal vivo, voglio che sia un disco dal vivo, è errori o non errori, problemi, non problemi, chiacchia da tutto. Tante cose ci sono tra i rompi, otto minuti, ma otto minuti, quando li siete proprio, non spaventate, è perché ci sono delle cose, per cose si intende, dei finali, dove io amo giocare col pubblico, perché per me il concerto non può essere un concerto, questo cerco sempre di, difficilmente riesco a trasmetterlo a tutti gli artisti, però voi siete il pubblico, non lo siamo tutti, no? Il nostro compito è salire qui, qui sopra, e darvi delle emozioni, cercare di fare qualcosa per voi. Questo è il nostro compito. Poi se arrivano soldi, fame, va bene.